Dopo la scoppola interna rimediata contro la squadra partenopea del Pratera Napoli, cerca il pronto riscatto, la seconda vittoria in campionato, dopo quella ottenuta contro Ponte Cagnano, dove grande protagonista fu Floriana Pinto, oggi in campo con il numero 9 a guidare l'attacco della squadra Irpina. Oggi in maglia giallo-verso, prova al sinistro, c'è la parata di Boccaccio, ha provato la sorpresa Pinto, ha visto fuori dai pali il portiere partenopea, ha cercato il sinistro a spiovere. Sul numero 16, Barbato, palla per Pinto, in aria Pinto, Serino, Pinto e c'è il gol dell'Elpina Sport di Floriana Pinto, dedica il gol alla nostra relazione, abbiamo detto prima della gara se segni, dedica il gol a Sport Channel e ha sottoscritto, lo ha fatto e abbiamo portato fortuna a Bomber Pinto che ha segnato la rete del vantaggio, la palla a Esposito, ancora Esposito, va via, molto bene Esposito, 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 c'è il capinto, Esposito, il destro, il tiro e il gol! Abbiamo chiamato anche il secondo gol interno di Esposito. Esposito, autrice della seconda marcatura in casa del Pignasport, però forse il destro verso la porta di Boccaccio. E' così, destro, interessante, si interrompe la pomarda e segna la terza rete, ha interrotto la giocata di Esposito e la pomarda ha segnato la rete del 3-0. Ma che giocata di Esposito che ha bucato la di Paiuca. Di punta, va a spazzare, trova la pomarda, però vediamo se arriva sul pallone, si arriva sul pallone, si arriva sulla pomarda, la pomarda, tacca l'aria, molto bene, la pomarda, la pomarda, tu per tu, la pomarda, il tiro e c'è il gol! Che gol di la pomarda, 4-0, va via Merola e poi con il destro trafigge Boccaccio, ma che assist di Paiuca che con la punta ha servito la pomarda. Al 21esimo è servito il poker in casa, il Piniasport, serve sulla corsa Esposito, arriva il triplice fischio finale, il Piniasport trova la seconda vittoria interna della stagione, 4-0 contro la SD Woman Calvizzano.